A marzo 2011 siamo al Viale Rossini dove sono venuto a fare la segnalazione riguardo le buche per la strada e iniziamo a vedere allora come si può vedere dei piccoli interventi sono stati fatti come si può vedere alcuni interventi di ripristino del manto stradale piccoli rabbezzi sono stati fatti qua sono stati staziati dall'amministrazione 200.000 euro quindi questa strada sarà di qualificata tutta quanta marcia a piedi e manto stradale quindi per far capire che l'amministrazione come è presente il consigliere portoghese segnala praticamente i vari problemi per la strada con video, con lettere scritte e facciamo vedere praticamente i risultati quindi siamo qua ovviamente a riprendere la strada siamo sempre al Viale Rossini stiamo riprendendo la strada dei vari interventi che sono stati fatti per rafferci che sono stati fatti per la strada del Viale Rossini per rafferciare praticamente i vari interventi che sono stati fatti per la strada del Viale Rossini ecco qua, qua sono stati fatti anche dei rappezzi come si può vedere siamo a Viale Rossini stiamo riprendendo un poco dei vari interventi che sono stati fatti per la strada del Viale Rossini anche qua come si può vedere siamo sempre a Viale Rossini quindi ci ritroviamo nel Viale Rossini che sono stati fatti per la strada del Viale Rossini ripeto, sanziati 200.000 euro per poi riqualificare tutta la strada ora per riqualificare tutta la strada del Viale Rossini E quindi, come si può notare, gli interventi sono stati alcuni fatti. Qui, dove buttano sempre la spazzatura fuori radio, un punto tragico che io segnalo sempre, come si può vedere. Anche qua sono stati fatti degli interventi di manutenzione. Dove ho segnalato, praticamente, questa strada del Piale Rossini. Quindi, con questo ho finito, il mio dovere l'ho fatto, ci vediamo, alla prossima, segnalazione. Fatti, no, demagogia. Quindi, con questo ho finito.